privato immobiliare del mondo, circa 350 milioni di euro, in realtà ne incassa 200 milioni. Dalla manutenzione ordinaria ne spende 250 milioni, circa 270 milioni da affitti da terzi per le attività proprie, quindi scuole, licei classici, asili comunali, corpo dei vigi urbani. Totale, entrate 200 milioni, uscite 320 milioni. Penso che sia un caso incredibile che uno con 18.000 appartamenti perde dalla gestione ordinaria 320 milioni l'anno. Quindi ben venga la vendita, anzi il regalo, e qui potrei andare avanti con l'Alcoa, si è calcolato che dando a ogni operaio dell'Alcoa un milione di euro cash, l'operaio sardo, penso che sarà decisamente soddisfatto, l'Alcoa sarebbe chiusa perché propongono un sistema energetico e di estrazione di carbone inutile e improduttivo a livello mondiale. Secondo, io sono presidente dell'avvisory board di un gruppo internazionale che investe in 76 paesi del mondo, che si chiama Atchison One Poa, che è proprietario dei più grandi concessioni, ai più grandi porti del mondo, e però è noto per il marchio 3 con il quale in Italia è presente. Io desidero raccontarvi, non c'è nessun particolare motivo, che quando il signor Licashin è venuto a Roma ha incontrato i due presidenti del Consiglio, il dottor Berlusconi e il professor Prodi, ai quali entrambi gli hanno detto, ma lei si prenderebbe la concessione in Porto di Gioia Tauro? Allora, non c'è voluto una grande serie di telefonate che il nostro presidente mondiale ha dovuto fare per valutare che questo investimento non avrebbe fatto. Quindi la lotta alla criminalità e evitare che una parte significativa del territorio italiano sia in mano alla mafia, all'andrangheta, alla camorra, è un elemento essenziale per sbloccare la capacità attrattiva degli investimenti esteri in Italia. aveva detto con forza superare la burocrazia, non 38 anni, ma 3 anni per il raddoppio, anche un anno per raddoppiare il binario Roma-Ciampino, lotta alla criminalità, predivano le privatizzazioni. sugli Stati Uniti d'Europa, vorrei ricordare, uno come il dibattito del referendum sull'energia nucleare è stato un referendum schizofrenico. L'Italia attualmente importa il 18% della propria energia elettrica consumata dalla Francia, la quale la produce per oltre il 90% da centrali nucleari. Quindi noi consumiamo energia elettrica prodotta da centrali nucleari, le quali 60 centrali nucleari francesi si trovano a meno di 200 km dal confine, in un posto in cui non ci vuole l'Istituto di Meteorologia del CNR per sapere che i venti corrono ad est. Quindi i primi zone colpite da un'eventuale incidenza sarebbero il Piemonte e la Lombardia. Allora queste decisioni, le centrali nucleari, le scelte energetiche, la TAV, la politica della difesa, vanno preso con una forte Europa politica unita. E' il motivo per cui mi riconosco nelle cose che sono state dette qui, Stati Uniti ed Europa, noi siamo a metà del guado come Europa, a un grave metà del guado. O si finisce male, si scivola in Africa, o si fa un rilancio politico fortissimo verso un'integrazione politica europea. Addirittura abbiamo un piccolo avanzo di tempo, quindi la palma della sintesi. Dunque, adesso si cambia. Allora, qui al tavolo verranno, e ringrazio tutti coloro che sono intergiunti fino adesso, verranno i rappresentanti degli istituti e delle fondazioni, gli storici, quelli che esistono da molti anni e che dibattono idee da molti anni. Filippo Calciano per l'Istituto Sturzo, Mario Lupo per la Fondazione Inaudi, Francesca Traclò per la Fondazione Rosselli, Tascuale Moliterni per Ardep. Prego. Le idee stanno venendo fuori, le proposte sono venute fuori in questi primi interventi, non c'è dubbio. Il problema è legarli insieme e trasformarli in qualcosa che assomiglia a un progetto politico, a un programma politico, insomma, quel filo di Arianna a cui si faceva riferimento. È veramente questo il problema. Individuare il filo di Arianna e legare insieme idee che devono poi avere anche una loro coerenza. perché è una domanda di fondo che, per esempio, stabilito che io credo che il sistema politico, così com'è, non sia in grado di rinnovarsi al punto da recepire tutte queste proposte, però alcune di queste proposte potrebbero essere accettabili e fatte proprie, almeno alcune. Per esempio, il tema dell'Assemblea Costituente è un tema fondamentale ed è sulla carta, diciamo, accettabile dal sistema anche malandato in cui viviamo. Purtroppo la legislatura si sta completando e non è stato pensato di... Lo proponeva Mario Baldassini. Sì, lo so, lo so, lo so che le hai ripresentati. Il problema è che nessuno ha votati. Sì, sì, va bene, ma questa è una soddisfazione modesta, diciamo, rispetto... Perché l'idea che c'era anche nella relazione di Mario Baldassari, che si potesse votare per le politiche e insieme eleggere l'Assemblea Costituente, ma occorreva che ci fosse una legge ad hoc costituzionale, purtroppo non si è fatto. Quindi quantomeno si è perso un anno, un anno e mezzo rispetto a un'eventuale prospettiva successiva al voto politico. Va bene, allora, io darei la parola per primo, sempre con la regola dei sette minuti, a Filippo Calciano, Istituto Sturzo. Prego. Grazie, buongiorno, grazie all'invito. Dunque, sette minuti, sono pochi, proviamoci. Viviamo in una situazione in questo momento che tutti conosciamo, c'è un panorama molto critico, economico, sociale, morale, direi. il calo dei consumi anticiclici, il calo della produzione industriale, la disoccupazione, il quadro economico è molto fosco e a fronte di questo noi assistiamo ad una politica convulsa, disordinata e incapace apparentemente di pensare e di decidere. la fiducia dei partiti al 4% è il punto zero nella storia della democrazia repubblicana che è proprio una democrazia dei partiti, così è nata. Pesa oggi come una responsabilità storica l'incapacità del certo politico italiano di autoriformarsi e di evolversi. Ora, al di là degli scandali, il problema è che la classe politica attuale in generale non sembra attrezzata a comprendere e quindi a gestire il nuovo mondo che sta avvenendo fuori dalla crisi perché questa crisi sta partorendo un nuovo mondo con protagonisti diversi che conosciamo già che sono l'Asia che sono l'America Latina con diversi modi di produrre beni e servizi con diversi modi di specializzare la produzione tra paesi con diversi modi di finanziare questa produzione le banche saranno sempre meno importanti a nulla serve anche in Italia reinventare un'era di banca dei territori di banca commerciale cambia il modo di intendere la persona i diritti cittadinanza la mobilità delle persone cambia quello che bisogna studiare cambia la formazione cambia l'università al di là degli scandali la nostra classe politica non sembra attrezzata per gestire tutto questo ci troviamo quindi di fronte nel nostro paese alla necessità storica di sostituire parti cospicue della classe dirigente non solo di quella politica e questo non è certamente facile non è facile in un paese in cui è bloccata la mobilità sociale e in cui è bloccato il finanziamento delle idee innovative di impresa e certamente la classe dirigente la parte di classe dirigente che andrebbe sostituita non si sostituisce con le rottamazioni con gli slogan anche perché non tutto è da rottamare non tutti sono da rottamare questo è un problema tutto italiano non è possibile avere un cambio generazionale a livello di classe dirigente fisiologico naturalmente non certamente non armonioso ma quantomeno non traumatico sembra impossibile chiunque è chiamato rispetto al fornire nuove idee e al fornire classe dirigente in questo momento a contribuire chiunque si senta come diceva appunto Luigi Sturzo libero e forte il governo dei tecnici il governo Monti non solo è stata la risposta all'emergenza è un primo tentativo incompleto non necessariamente definitivo di superamento di una politica inadeguata dal punto di vista per esempio simbolico della narrativa politica il governo Monti reintroduce la serietà e la sobrietà simbolicamente la competenza nella narrazione politica italiana dopo la fase finale del berlusconismo per esempio e si illude chi crede di poter tornare alla vecchia politica questa fase di governo rappresenta una soluzione di continuità e chi governerà il paese dopo Monti dovrà tenere conto di tutto questo cosa possiamo dire al nuovo governo che sarà cosa davvero manca in Italia in Italia quello che manca quello che si è rotto è il contratto sociale o meglio esiste un contratto sociale ma non è virtuoso come notava Marco Alfieri il contratto sociale all'italiana si è retto su due storture da una parte una pubblica amministrazione in larga parte inefficiente e dall'altra parte un settore privato che finanzia una pubblica amministrazione inefficiente in cambio di lassismo sul piano dell'evasione fiscale questo è stato il contratto sociale italiano questo è quello che qualsiasi nuovo governo deve cambiare deve trasformare se pretendiamo lo scontrino dai commercianti la fattura dai professionisti e dalle imprese quindi se combattiamo l'illusione e l'evasione in modo serio dobbiamo anche pretendere l'efficienza da chi lavora nelle strutture della pubblica amministrazione vorremmo vedere i soldi pubblici che diventano preziosi come l'oro vorremmo una spending review che non è un provvedimento di spesa ma un programma culturale ecco la vera essenza dell'economia sociale di mercato è il rilancio dell'assetto produttivo del paese e anche il ribilanciamento del tessuto sociale le linee di politica economica dovrebbero essere quelle che generano un nuovo contratto sociale rivedere l'imposizione fiscale in una direzione più progressiva riformare il settore pubblico toccando la struttura salariale e sì al posto fisso no al salario fisso il salario non è fisso perché non incentiva il salario fisso trasformando i miliardi di fondo perduto erogati al settore privato in un fondo di garanzia pubblico che consenta alle banche di finanziare imprese valide ancorché fisiologicamente sottocapitalizzate questi sono provvedimenti che generano un nuovo contratto sociale generano incentivi generano virtuosismo tutto ciò mantenendo naturalmente ciò che abbiamo conquistato faticosamente che non dovremo perdere nel simbolico politico i valori di sobrietà di serietà di internazionalità che il governo Monti ha introdotto innegabilmente grazie 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 sì questo aver definito così bene le caratteristiche di un nuovo contratto sociale virtuoso credo che sia uno dei punti che vanno sottolineati perché credo che sia proprio questo superare questo scambio anomalo e delittuoso tra inefficienza e l'assismo fiscale che poi è la base tra l'altro di questo enorme quantità di denaro che sfugge ogni anno attraverso l'evasione o attraverso diciamo lo spreco perché l'altra faccia dell'evasione è lo spreco generalizzato e credo che sia proprio uno dei punti da sottolineare in questo nostro in questo nostro agendo di proposte Mario Lupo Fondazione Inaudi prego grazie io credo che vada dato grande merito alla Fondazione Economia Reale e a Mario Baldassare di essere riuscito a riunire oggi in questa iniziativa una così vasta forse quasi esaustiva parte dell'associazionismo della società civile e di averlo fatto non palesemente per dare una ribalta a queste forze perché denunciano situazioni di degrado della nostra vita economica e sociale perché avanzino proposte in ordine sparso ciascuno dalla sua ottica ma di avere dato anche a questa adunanza odierna una traccia concreta il documento di base ancora disponibile per chi non lo avesse percorso ecco in cui sono indicate una serie di proposte concrete quelle proposte alla quale veniamo sollecitati di approdare per passare appunto dalla protesta alla proposta e quindi sul merito delle singole proposte non mi intratterrò se non con qualche richiamo molto rapido e qualche sottolineatura per dirla sinteticamente personalmente personalmente debbo fare una piccola parentesi non so la fondazione in Audi nei suoi organi direttivi mettere d'accordo non tre ma due liberali è già molto difficile quindi pensare che tutti si aggreghino attorno a una serie di proposte è miraggio io ho tuttavia l'idea di aver pensato con la come dire con la mente prevalente dei pensatori liberali che sono riuniti attorno al tavolo consiglio direttivo della fondazione mi arrogo questa facoltà dicevo che il documento di economia reale tocca fondamentalmente tre punti tre aggregazioni di problematiche il Parlamento la crescita e le risorse che occorrono per la medesima l'Europa e sia pure con un brevissimo scenno finale la riforma costituzionale questi sono i poli attorno ai quali il documento è costruito Parlamento io sposo quello che Mario Baldassare scrive e dice per conto della sua fondazione assolutamente bisogna convincere le forze politiche che concorreranno alla formazione del nuovo Parlamento che saranno giudicate valutate e votate oppure no non in base alle leadership non in base alle alleanze che pure sono importanti e sono determinanti ai fini di rendere credibile una certa politica ma saranno valutate in base alle proposte concrete che faranno per risolvere i problemi del Paese se questo non lo facciamo sentire come un'esigenza forte pregnante della società civile abbiamo perduto la prima battaglia seconda cosa mi permetto di aggiungerla a titolo assolutamente come mio contributo parzialmente integrativo al documento di Mario Baldassare signori dobbiamo tutti impegnarsi per dire ai cittadini ai componenti della società civile che rappresentiamo che debbono andare a votare che la cosa peggiore che si possa fare per dare un colpo mortale al Paese dal punto di vista economico dal punto di vista sociale dal punto di vista politico è l'assenteismo dal voto e su questo ci dobbiamo impegnare tutti dobbiamo farlo capire che è una sorta di sacrificio di origine quello che irritato dalla politica dalla sua pochezza non va a votare noi dobbiamo andare a votare lo dobbiamo dire ai nostri cittadini altro merito del documento di economia reale dice chiaro chiaro papale papale che il problema vitale o mortale se preferite dell'economia italiana è la mancanza di crescita anzi la decrescita e che per fare crescita occorrono come per il nutrimento dell'organismo occorrono i nutrienti non occorrono gli integratori alimentari fin qui il governo Monti che pure ha tanti e ricordati e lodati pregi ha propinato all'Italia integratori alimentari non ci sono proteine non ci sono carboidrati non ci sono grassi ma ci sono gli integratori cosa sono gli integratori le cosiddette liberalizzazioni e semplificazioni che sono cose utilissime ma come integratori cioè se si vuole accrescere la efficacia di una terapia adulto va benissimo propinare gli integratori gli integratori da soli non servono a nulla se non a fare chiacchiere e queste cose bisogna dirle bisogna dirle con estrema e l'obiettivo più clamorosamente mancato dal governo Monti è l'obiettivo della crescita nella quale non ha prodotto assolutamente nulla se non integratori alimentari ultima cosa e qui non ricordo che cosa che cosa propone Mario Baldassari perché l'aveva già fatto lui e non ripeto assolutamente ciò che dice l'Europa se il Parlamento italiano il governo che esprimerà non darà una forte spinta e non contribuirà alla realizzazione degli Stati Uniti d'Europa abbiamo perduto un'altra battaglia fondamentale per risolvere i nostri mali lo dice molto bene Mario non aggiungo nulla da ultimo la nuova Costituzione per fare tutto ciò che va fatto per ridurre veramente la spesa pubblica per ricreare un patto sociale per rilanciare l'economia per ricostituire ecco veramente un tessuto che tenga la nostra società civile occorre una nuova Costituzione non soltanto nella seconda parte lo dicono tutti e non aggiungo altro a questo ma anche per la prima parte quella dei sacri e intoccabili principi che probabilmente oggi va riletta e va rimeditata mi fermo assolutamente qui la modalità è quella che ricordava prima Stefano Folli cioè che si crei una il nuovo Parlamento di avita una legge costituzionale che prevede la nomina di una molto scarna assemblea costituente di un centinaio di componenti non di più la quale in 18 mesi elabori una nuova Costituzione della Repubblica Italiana grazie grazie infinite grazie infinite e Francesca Traclò non c'è è vero la fondazione Rosselli no arriva dopo allora inseriamo dopo allora Pasquale Moliterni Ardep prego grazie condividiamo anche noi dell'Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico il documento che il senatore il professor Baldassare ci ha fatto pervenire e che abbiamo democraticamente analizzato all'interno del nostro Consiglio lo condividiamo con alcune sottolineature e integrazioni se ci possiamo se ci è consentito prima di tutto ecco l'Ardep nasce dopo il settembre nero del 92 e quindi nel 93 con l'intento appunto di far fronte alla questione del debito perché non lo trasferissimo alle nuove generazioni ci sono tre aspetti su cui vogliamo richiamare l'attenzione il problema del risanamento oggi se ne è parlato tanto la spending review in parte va in questa direzione la necessità di riforme fiscali strutturali e non emergenziali e la necessità di una formazione e non mera istruzione education di base continua centrata sui doveri di cittadinanza anche fiscale sviluppando sinergie innanzitutto tra i dicasteri MIURMF eccetera tra le istituzioni agenzie entrate GDF eccetera società civile come oggi stiamo facendo per una vera repubblica dal volto umano orientato al bene comune che sappia garantire i diritti inviolabili richiedendo i doveri di solidarietà per costruire per un paese che possa crescere credendo nuovamente in se stesso grazie più che un contratto noi abbiamo osiamo chiamarlo molto più semplicemente ma politicamente impegnativo patto sociale tra istituzioni e cittadini per sviluppare un progetto quel progetto che alla fine della seconda guerra mondiale consentì ai nostri padri costituenti di ricostruire e di farci uscire dalle macerie detto questo abbiamo qualche perplessità su una nuova assemblea costituente abbiamo preoccupazione che non si sia l'altezza e non ci sia l'anelito e l'impegno oggi per modificare una costituzione con quell'impegno e l'anelito che quei padri grandi padri hanno saputo mettere in campo superando divisioni politiche partitiche e ideologiche sul risanamento innanzitutto razionalizzare e rendere più trasparenti i costi della politica è una questione che non emerge dei membri del Parlamento e del Governo nazionale ma anche dei governi e dei consigli locali una riduzione delle spese dei ministeri nel bilancio dello Stato attraverso una vera riequilibrazione più che tagli lineari e un'ottimizzazione dell'uso delle risorse e soprattutto e qui veniamo a una questione che non è attuata nella nostra Costituzione una riforma fiscale in senso costituzionale noi parliamo di riforma ma l'articolo 53 della Costituzione non è stato mai attuato o meglio era stato messo in campo fino al 1972 quando avevamo 32 aliquete fiscali così soddisfacendo un principio di quell'articolo che è la progressività ma via via poi sappiamo siamo arrivati a 4 aliquete più riduciamo le aliquete più si costruisce iniquità fiscale e sociale quindi questo per noi è fondamentale garantire l'equità fiscale aumentando la progressività del prelievo per essere concreti diminuendo le aliquete IVA per i beni e i servizi essenziali aumentando il numero della liquida in ragione delle fasci di reddito imponibile sconfiggere l'evasione con attenzione alla deducibilità ecco questo è uno degli aspetti della proposta Baldassari che ci lasciava un po' perplessi ma avendo messo il limite a 3.000 euro di deducibilità noi diciamo che un vero impegno verso l'evasione deve attivare veramente il contrasto di interessi così come accade in altri paesi anche meno evoluti 20 anni fa e 15 10 anni fa del nostro vedi il Brasile facendo attenzione alla capacità contributiva di ciascuno che era il primo comma e il primo comma dell'articolo 53 della nostra Costituzione quindi eliminando ogni forma di determinazione forfettaria del reddito in modo tale da poter ricomprendere all'interno di questo nuovo sistema fiscale tutto ciò che è la miriade di norme fiscali che oggi attanagliano cittadini imprese e quant'altro soprattutto poi per quanto riguarda l'imposta e quindi se necessario far fronte con una imposta patrimoniale straordinaria grazie ci starò tranquillamente ringrazio imposta patrimoniale straordinaria così come anche stamani abbiamo letto su tutti i giornali ha ribadito il presidente il grande presidente Obama ha rilanciato questa idea stamattina il dottor Secchi ci ha richiamato a prestare attenzione a quanto accade non solo in Europa ma nel mondo e questa è una delle notizie che dobbiamo far nostra soprattutto poi per quanto riguarda il patrimonio pubblico abbiamo qualche perplessità nella dismissione per tante ragioni primo perché oggi come oggi il mercato non c'è un mercato che consenta di avere rendere appetibili questo ma noi non possiamo trasferire ciò che non è nostro che noi abbiamo ricevuto e che dobbiamo mantenere per le prove nuove generazioni abbiamo pensato nella nostra proposta di far sì che il patrimonio pubblico diventi una garanzia per l'emissione di titoli di Stato riservati al sistema Italia per l'abbattimento del debito pubblico di almeno due punti percentuali gli economisti siamo un'associazione composita tra pedagogisti economisti sociologi e quant'altro e quindi i nostri colleghi hanno fatto delle stime per cui riusciremo a ricavare circa 40 miliardi di recupero soltanto per questo anno in modo tale che si venisse incentivato l'acquisto di tale debito da parte degli italiani così come avviene in Giappone perché il problema del debito è che venga acquisito dagli stranieri ma se lo acquistiamo noi è evidente che questo ci ripara dei rischi offrendo la possibilità di contribuire anche a chi ha portato all'estero illegalmente i patrimoni di poter contribuire al risanamento in forma patriottica riuscendo a mettere in sicurezza il paese abbiamo presentato a suo tempo una proposta di noleggio da questo punto di vista dei beni artistici pubblici inutilizzati perché effettivamente abbiamo una serie di musei i cui scantinati sono pieni di opere inutilizzate e questo potrebbe consentirci ma non per questo di smetterli in pratica riteniamo che gli elementi quindi su cui far leva siano questi risanamento riforma fiscale strutturale formazione perché il problema grosso è oggi stamane è emerso da parte in tutti gli interventi rilanciare tutta questa attenzione una questione che riguarda per esempio anche la forma che riguarda la scelta dei nostri rappresentanti mi permetto di sottolinearla perché non è emerso finora una proposta innovativa da questo punto di vista ma alcuni nostri esperti all'interno della nostra associazione richiamano la nostra attenzione sul fatto che dovremmo prendere in considerazione il sistema australiano e irlandese nella costituzione di collegi uninominali dove i cittadini scelgono i propri rappresentanti esprimendo in una lista unica esprimendo una sola preferenza e accumulando poi il sistema delle preferenze sono evidentemente asserzioni queste che invitiamo i presenti e chi possa essere interessato ad approfondire attraverso il nostro sito che è www.ardep.it grazie grazie a Pasquale Moliterni anche per l'estrema concretezza e franchezza delle sue proposte ascoltando mi è venuto in mente a proposito della valorizzazione di ciò che abbiamo nel nostro paese dell'arte del grande patrimonio che abbiamo una frase di Bill Gates che dice che ha detto se invece della Microsoft io avessi avuto la galleria degli uffizi avrei potuto fare molti più soldi il che non significa che si sarebbe venduto le opere degli uffizi naturalmente significa che avrebbe saputo come valorizzare al meglio l'immenso patrimonio artistico direi anche poi paesaggistico e ambientale di cui dispone l'Italia dunque nel frattempo ci ha raggiunti Francesca Traclò da Fondazione Rosselli si è riposata? è in grado di ecco allora abbiamo sette minuti sì anche me bene grazie mi entro un ringraziamento sentito al professor Baldassari per questa iniziativa non è piageria ma devo dire appunto la cosa che mi sembra più interessante è la modalità e l'approccio che si sta cercando di seguire quello che cercherò ora di dire brevemente nell'intervento non è tanto volto a fare una proposta specifica rispetto ad un settore o anche individuare un decalogo che possa salvare l'Italia francamente io credo che siamo usciti fuori da vent'anni io sono relativamente giovane quindi diciamo vent'anni vissuti di ascoltare il decalogo le dieci cose che possono cambiare l'Italia il contratto con gli italiani tutto ciò che diciamo in maniera molto semplicistica viene proposto per il cambiamento e abbiamo appreso che tutto questo intanto non serve alla gente perché non lo capisce cioè l'eccesso di semplificazione comunque non ci aiuta a capire dove stanno i problemi e dall'altro lato credo che abbia creato anche una come dire un'eccessiva semplificazione nei termini e nelle modalità di affrontare le cose e in verità questo non è non è molto utile allora quando mi ha chiesto il professor Baldassari di intervenire ho detto la fondazione Rosselli è come istituto di ricerca fa attività di ricerca in diversi campi per cui per me è molto difficile dire esattamente diciamo se parliamo di cultura entriamo nello specifico della cultura e possiamo dire o possiamo suggerire alcune cose che sarebbe opportuno fare se parliamo di media entriamo nello specifico di media ma mi piace di più invece discutere su quello che è l'approccio io credo che la questione sostanziale non sia oggi tanto legata a definire quale sono le dieci cose da fare ma a come stiamo guardando alla crisi e a capire dove sta effettivamente il cambiamento la prima questione quindi è andare a guardare come guardiamo al futuro e come affrontiamo la crisi la ricerca anche nelle scienze sociali ci ha fatto ha fatto enormi passi avanti negli ultimi anni dei risultati di questa ricerca io credo che noi ne abbiamo fatto poco tesoro nell'interpretazione della realtà e vengo subito a spiegare quello che voglio dire molta della ricerca ci ha dimostrato in particolare il filone delle neuroscienze e della neurobiologia che noi non siamo soggetti razionali ma che siamo il campo emotivo e il campo razionale sono fortemente collegati per cui non possiamo scindere l'emotività dalla razionalità questo che cosa ci porterebbe che cosa ci porta a dire di fatto che il nostro i nostri diciamo il nostro modo il nostro pensiero è fortemente condizionato dalla nostra parte emotiva e la parte emotiva è fortemente condizionata nei nostri linguaggi questo significa ovviamente quindi che quando noi guardiamo ai modelli interpretativi dell'economia piuttosto che ai modelli interpretativi della società non possiamo prescindere da questo aspetto e quindi non possiamo semplificare così come abbiamo fatto fino ad oggi semplificare l'analisi della realtà nel momento in cui noi andiamo diciamo rivediamo i modelli interpretativi della realtà ci rendiamo conto che ci sono delle parole chiave che ci riecheggiano la prima parola chiave è multidisciplinarietà la seconda parola chiave è multisettorialità tutti i modelli interpretativi sono fortemente settoriali e sono fortemente unidisciplinari quello che oggi invece abbiamo difficoltà a portare avanti è proprio la capacità di avere un approccio multisettoriale alle cose e uno dei limiti forti per arrivare ad avere un approccio multisettoriale parte dal linguaggio e dalla capacità di abbandonare vecchi modelli interpretativi e andare a cercare nuovi modelli interpretativi questo noi come fondazione non abbiamo come dire risposte a quale debbano essere i modelli interpretativi ma crediamo che lo sforzo che debba essere fatto e quindi l'approccio che debba essere comune è proprio quello di mettere insieme le forze per cercare di andare oltre le visioni settoriali piuttosto che oltre le visioni diciamo disciplinari la seconda il terzo punto tre minuti grazie allora cerco di andare ancora più rapidamente quindi nella proposta qual è la proposta sostanziale che ci piace portare avanti è un approccio la proposta sostanziale va più sull'approccio e non diciamo non tanto sul contenuto e l'approccio che mi sembra che oggi in qualche modo si stia tentando di inaugurare ed è importante tenerlo conto perché molte delle cose che oggi si sentono che io ho sentito anche durante la giornata ci dicono fondamentalmente i problemi sono questi le soluzioni sono queste io mi permetto di dire mi perdoni mi attacco al tema della sua valorizzazione degli uffizi sono anni che parliamo della valorizzazione dei beni culturali e pur tuttavia non otteniamo risultato non è un problema di spesa economica di quanto investiamo sui beni culturali perché la dimostrazione noi abbiamo chiuso da poco l'indagine un'analisi sugli open data sulla spesa in fondi strutturali sulla cultura e parliamo di un miliardo di euro negli ultimi sette anni pur tuttavia non siamo riusciti a fare valorizzazione allora il problema è un problema di qualità della spesa il problema è allora andare a capire come dobbiamo cambiare le politiche se continuiamo a pensare che le politiche sono quelle che facevamo dieci anni fa probabilmente non ci spostiamo non riusciamo ad andare avanti e non riusciamo ad andare oltre quindi l'aspetto diciamo dell'approccio come vedete è un aspetto assolutamente centrale la proposta che mi sembra importante avanzare in questa sede è proprio quella di riuscire a mettere insieme le forze per poter trovare una modalità diversa di guardare i problemi e quindi una modalità diversa di risolverli un'ultima citazione che mi pare importante negli ultimi diciamo negli ultimi tempi si sta lavorando moltissimo sul tema delle smart cities perché la città è sicuramente il centro focale della qualità della vita delle persone e quindi e anche della produttività dei sistemi l'approccio ancora una volta però è quello di far sì che siano le tecnologie driver del cambiamento con degli atteggiamenti molto settoriali per cui la mobilità fa una cosa la salità le fa un'altra le assicurazioni le fanno un'altra e così via questo scopriamo rapidamente che non porta a una migliore città se andassimo a guardare l'indicatore del benessere di cui tutti quanti parliamo ma che poi non valutiamo e di cui non ne consideriamo l'impatto veramente ci renderemmo conto che questo in verità non riesce a farci come dire migliorare non riesce a farci diciamo ma